1. Buongiorno. Buon dia. Buon dia. Buona giornata. Buon dia. Buon dia. Buon pomeriggio. Buona tarda. Buona tarda. Buona notte. Buona nit. Buona nit. Per favore. Siusplau. Siusplau. Prego. Benvingut. Benvingut. Sì. 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 No. 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 Buona. Be. Be. Cattivo. Dolen. Dolen. Piacere di conoscerti. Encantata conoscerta. Encantata conoscerta. Di dove sei? Donetsk. Donetsk. Che cosa fai? Cuefas. Cuefas. Qual è il tuo numero di telefono? Quina è il tuo numero di telefono? Quina è il tuo numero di telefono? Grazie mille. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Mi dispiace. Ho sento. Ho sento. Suona bene. Açò suona fantastic. Açò suona fantastic. Io non capisco. No ho enten. No ho enten. Potrebbe ripetere, per favore? Pots repetir, siusplau. Pots repetir, siusplau. Puoi aiutarmi? Em pots ajudà. Em pots ajudà. Quanto costa questo? Quanto costa això? Quanto costa això? Come posso aiutarla? Com et puc ajudà? Com et puc ajudà? Per favore chiamami. Siusplau trucca Emma. Siusplau trucca Emma. Nessun problema. Cap problema. Cap problema. Buon compleanno. Feliç aniversari. Feliç aniversari. Stia attento. Ves a'm compte. Ves a'm compte. Non preoccuparti. No us preocupeu. No us preocupeu. Aiuto. Ajuda. Ajuda. Come stai? Coma stàs? Coma stàs? Non ti sento. No et sento. No et sento. Non mi piace. No em agrada. No em agrada. Se hai bisogno del mio aiuto, per favore fammi sapere. Se necessiteu la meva ajuda, feu ema o sabè. Se necessiteu la meva ajuda, feu ema o sabè. Ti amo. Te estimo. Te estimo. Sono felice. Estic content. Estic content. Sono molto impegnato. Non ho tempo adesso. Estic molt enfeinat. Ara no tinc temps. Estic molt enfeinat. Ara no tinc temps. Penso che sia molto buono. Crec che è molto buono. Crec che è molto buono. Solo un momento. Només un moment. Només un moment. Certo. Escla. Escla. PenguinAudiabook.com Questo è molto importante. Aciò è molto importante. Aciò è molto importante. Voglio. Voi. Voi. Non voglio. No voglio. No voglio. In cui si. On. On. Dov'è. On es. On es. Dov'è la toilette. On es albata. On es albata. Quanto. Quan. Quan. Quanto costa. O. Quanto costa. Quan costa. O bé. Quan costa. Quan costa. O bé. Quan costa. Orolojo. In punto. Rallotge. En punto. Rallotge. En punto. A que hora. Quina hora. Quina hora. A que hora. A quina hora. A quina hora. Ai. Tu tens. Tu tens. A vete. Ai. Tens. Iens. Tens. Tens. Iens. Tens. Capisco. Anten. Anten. Non capisco. No anten. No anten. Capisci. Antens. Antens. É. Es. Es. É. Es. 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 Dove si trova la stazione ferroviaria? On está l'estació de tren? On está l'estació de tren? Dove sono i bagni, per favore? On son els lavabos, si us plau? On son els lavabos, si us plau? Alla stazione dei treni, per favore. Fins a l'estació de tren, si us plau. Fins a l'estació de tren, si us plau. All'aeroporto, per favore. All'aeroport, si us plau. All'aeroport, si us plau. Mi piacerebbe. E m'agradaria. E m'agradaria. Vorrei un taxi. Voldria un taxi. Voldria un taxi. Mi chiamo Anders. Come ti chiami? Em dic Andes. Com et dius? Em dic Andes. Com et dius? Il mio nome è Maria. Em dic Maria. Em dic Maria. Il tuo cognome? Il teu cognom. Il teu cognom. Qual è il tuo lavoro? De che trabalhas? De che trabalhas? Sono un fotografo. Soc fotografe. Soc fotografe. Cosa studi? Cosa studias? Cosa studias? Sto studiando inglese. Estico studiando inglese. Estico studiando inglese. Dove vivi? Ombius. Ombius. Come ti chiami? Com et dius? Com et dius? Mi chiamo Anna Peterson. Em dic Anna Peterson. Mi chiamo Anna Peterson. Da dove vieni? D'on vens? D'on vens? Vengo da Uppsala ma vivo a Stoccolma. Io vinc d'Uppsala però visco a Stoccolm. Io vinc d'Uppsala però visco a Stoccolm. Qual è la tua professione? Quina è la tua professione? Quina è la tua professione? Sono un autista di autobus. Soc conduttore d'autobus. Soc conduttore d'autobus. Tenguenoriabook.com 3. Grazie e arrivederci. Grazie e adeo. Grazie e adeo. Arrivederci. Adeu. Adeu. Com'è il tempo? Quin temps fa? Quin temps fa? Cosa vorresti mangiare? Che ti agradaria mangiare? Che ti agradaria mangiare? Molte grazie. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Grazie. 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 Hotel Bellman, buongiorno. Hotel Bellman, buongiorno. Hotel Bellman, buongiorno. Buongiorno. Hai una stanza libera? Buongiorno. Té una habitació bacana. Buongiorno. Té una habitació bacana. Per una persona? Per una persona. Per una persona. Sì, per una persona. Sì, per una persona. Sì, per una persona. Per oggi? Per avui. Per avui. No, per domani. No, per demà. No, per demà. Per una notte. Per una nit. Per una nit. No, per sei notti. No, durante seis nits. No, durante seis nits. Sì, abbiamo una stanza libera. Sì, tenim una habitació buida. Sì, tenim una habitació buida. Oh, che bello. Quanto costa? Oh, això és genial. Quant costa? Oh, això és genial. Quant costa? Cento euro a notte. Cent euros euros per nit. Cent euros euros per nit. Cosa vorresti mangiare? Que t'agradaria menjar. Que t'agradaria menjar. Due panini speciali, per favore. Dos entrepans especials, s'hi us plau. Dos entrepans especials, s'hi us plau. Ebere? I per beure. I per beure. Una grande birra chiara e acqua, per favore, dopo pranzo. Una gran cervesa e aigua, s'hi us plau, després del menjar. Una gran cervesa e aigua, s'hi us plau, després del menjar. Posso pagar? Puc pagar. Puc pagar. Certamente. Saranno 18 euro. Certamente. Saranno 18 euro a euro. Certamente. Saranno 18 euro a euro. Grazie. Il treno è in ritardo, purtroppo. Grazie. Il treno es retarda, malauradament. Grazie. Il treno es retarda, malauradament. Sì, c'è una partita di calcio a Madrid. Sì, c'è un partit di futbol a Madrid. Sì, c'è un partit di futbol a Madrid. Sì, ci vado anch'io. Quando arriverà il treno? Sì, també hi vaig. Quan vindrà il treno? Sì, també hi vaig. Quan vindrà il treno? In mezz'ora. Quando inizia la partita? Al miglia hora. Quan comença il partit? Al miglia hora. Quan comença il partit? Vorrei un biglietto per viaggiare. Voldria un bigliet per viaggiar. Voldria un bigliet per viaggiar. Un biglietto per... Un biglietta. Un biglietta. Il treno per Madrid. Il tren cap a Madrid. Il tren cap a Madrid. Il treno da Madrid. Il tren des de Madrid. Il tren des de Madrid. Il treno da Madrid a Parigi. Il tren da Madrid a Parigi. Primo. Primer. Primer. Prima classe. Primera classe. Primera classe. Seconda classe. Segona classe. Segona classe. Un biglietto di sola andata. Un biglietto di andata e ritorno. Un biglietto di andata e tornata, si usclau. Non fumare, non fumatore. No fumà, no fumà. No fumà, no fumà. www.enguenaudiabook.com Dov'è l'autobus per Monaco di Baviera? Oneslautobus Cap-Monique. Oneslautobus Cap-Monique. Quale numero? Quin numero? Quin numero? Quale posto? Quin seien? Quin seien? Posto numero cinque. Seien numero cin. Seien numero cin. Il biglietto per la prenotazione del posto. Il tiquet de reserva de seien. Il tiquet de reserva de seien. L'horario, l'horario. L'horari, l'horari. L'horari, l'horari. Il primo treno. Il primer tren. Il primer tren. Il secondo treno. Il segon tren. Il segon tren. Il prossimo treno. Il prossimo treno. Il segon tren. Il segon tren. L'ultimo treno. L'ultim tren. L'ultim tren. I soldi. Els diners. Els diners. La banca. Il banc. Il banc. Dov'è la banca? On'està al banc. On'està al banc. L'ufficio di cambio valuta. L'officina de cambio de divises. L'officina de cambio de divises. Vorrei cambiare dei soldi. E me agradaria cambiare una mica de diners. E me agradaria cambiare una mica de diners. Comprare. Comprar. Comprar. Vorrei comprare euro. E me agradaria comprar euros. E me agradaria comprar euros. Il tasso di cambio. Il tipus de cambio. Il tipus de cambio. Qual è il tasso di cambio? Com'è il tasso di cambio? Quin'è il tipus de cambio? Com'è il tipus de cambio? Chi'n'è il tipus de cambio? Com'è il tipus de cambio? Vorrei una stanza migliore. E me agradaria una abitazione migliore. E me agradaria una abitazione migliore. Vorrei una camera con bagno. E me agradaria una abitazione migliore. E me agradaria una abitazione migliore. E me agradaria una abitazione migliore. Quanto costa? Quant costa? Quant costa? Molto costoso. Molto costo. Molto costo. Molto costo. È troppo caro. È massa caro. È massa caro. Hai una stanza più economica? Tens una abitazione migliore. Tens una abitazione migliore. Tens una abitazione migliore. Tens una abitazione migliore. Hai la chiave? Tens la clau. Tens la clau. Funciona. 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 Non funziona. No funziona. No funziona. La doccia è rotta. La doccia sta trancada. La doccia sta trancada. Vorrei fare una prenotazione. Vorrei prenotare una stanza. Voldria fe una reserva. Voldria reserva una abitazione. Voldria fe una reserva. voldria reserva una abitazione. A destra. A la dreta. A la dreta. A sinistra. A l'esquerra. A l'esquerra. Gira a destra, o, vai a destra. Gireu a la dreta, o ve, aneu a la dreta. Gireu a la dreta, o ve, aneu a la dreta. Girare a sinistra. Gireu a l'esquerra. Gireu a la scherra. Sempre dritto. Tutto recto. Tutto recto. L'angolo. La cantonada. La cantonada. Dietro l'angolo. A la cantonada. A la cantonada. La strada. Carré. Carré. Penguinaudiabook.com Penguinaudiabook.com 5. Dall'altra parte della strada. A l'altra banda del carrer. A l'altra banda del carrer. La fine della strada. Al final del carrer. Al final del carrer. Per quanto riguarda la banca. A l'altra banda. Fins al banc. Fins al banc. Fino all'angolo. Fins a la cantonada. Fins a la cantonada. Fino alla fine della strada. Fins al final del carrer. Fins al final del carrer. Per quante persone. Per quantes persones. Per quantes persones. Vorrei un tavolo per due. Voldria una taula per dos persones. Voldria una taula per dos persones. Vorrei questo tavolo. E m'agradaria aquesta taula. E m'agradaria aquesta taula. Vorrei quello laggiù. E m'agradaria che fos allà. E m'agradaria che fos allà. Un altro tavolo. Una altra taula. Una altra taula. Hai un altro tavolo? Tens una altra taula. Tens una altra taula. La finestra. La finestra. La finestra. Vicino alla finestra, o, vicino alla finestra. A prop della finestra, o, a la proximità della finestra. A prop della finestra, o, a la proximità della finestra. Il menù per favore. Il menù si usclao. Il conto per favore. Il conto si usclao. Incluso. 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 Il servizio è incluso? Il servei sta incluso. Il servei sta incluso. Vorrei pagare, per favore. E mi agradaria pagare, si usclao. Due caffè, per favore. Dos caffè, si usclao. Vuoi un dolce? Voleo unes postres. Voleo unes postres. Quanto costa questo? Quanto costa això? Quanto costa això? Vorrei qualcosa di più economico. E mi agradaria una cosa més barata. E mi agradaria una cosa més barata. Vorrei qualcosa del genere. E mi agradaria una cosa així. E mi agradaria una cosa així. Sto cercando. Busco. Busco. No, non così. No, no així. No, no així. Grazie molto. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Prego. Us hi donem la benvinguda. Us hi donem la benvinguda. Quest'anno. Aquest any. Aquest any. L'anno prossimo. L'any que ve. O l'any que ve. L'anno scorso. L'any passat. O l'any passat. In due giorni. En dos dias. En dos dias. Entro due giorni. En un termini de dos dias. En un termini de dos dias. Due giorni fa. Fa dos dias. Fa dos dias. Due volte. Duas vegades. Duas vegades. Tre volte. Tres vegades. Tres vegades. Una altra volta. Una altra vegada. Una altra vegada. Ancora. De nou. De nou. Puntuale. Puntual. Puntual. Tenguenoriaboc.com Puntual. Quanto è tardi? Quanta tardi è? Quanta tardi è? Ottimo punto. Vuit ampun. Vuit ampun. È l'una. È l'una ampun. È l'una ampun. Sono le otto. Sono le sbuit. Sono le sbuit. Otto un quarto. Un quadra vuit. Un quadra vuit. Otto ore quindici minuti. Vuit'ora si quinza minuti. Vuit'ora si quinza minuti. Otto e mezza, nove e mezza. Vuit'i miglia, miglia nou. Vuit'i miglia, miglia nou. Un quarto alle nove. A un quadra nou. A un quadra nou. Otto ore e cinquanta minuti. Vuit'ora si cinquanta minuti. Vuit'ora si cinquanta minuti. Dieci minuti alle nove. Faltaven deu minuts pa' a les nou. Faltaven deu minuts pa' a les nou. Otto del mattino. Vuit del matí. Vuit del matí. Quattro del pomeriggio. Quatre de la tarda. Quatre de la tarda. Otto di notte. Vuit de la nit. Vuit de la nit. Qui? Oms. Oms. Chi è? Chi es? Chi es? Che cosa? Cue. Cue. Che cos'è? Cue es? Cue es? Cos'è questo? Cosa'è quello? Cue es a xò? Cue es a xò? Cue es a xò? Cue es a xò? Cos'è quello laggiù? Cue es a là? Cue es a là? Cosa hai detto, o, come per favore? Cue es dit? Cue es dit? Cosa hai detto, cosa stavi dicendo? Cue es dit? Cue deias? Cue es dit? Cue deias? Cue es dit? 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 autobus viaggia a Hamburg? Come mai? Per cui è? Per cui è? Perchè no? Perchè no? Come? Com? Come va? Come va? Com va? Com va això? Com va? Com va això? Come stai? Com com estàs? Quanto? Quan? Quanti? Quants? Quanti chilometri? Quants chilometres? Quanto lontano? A quanta distancia? A quanta distancia? Vuoi? Volumms. Vorresti? Te agradaria. Te agradaria. Engueno Reaboc.com 7. Parlo tedesco. Io parlo alamagno. Non parlo spagnolo. No parlo spagnol. No parlo spagnol. Parli spagnolo. Parles spagnol. Parles spagnol. Un po'. Un'amica. Un'amica. Da qui a lì. Da qui capa allà. Da qui capa allà. Alla stazione ferroviaria. Alla stazione ferroviaria. Alla stazione ferroviaria. Sulla piattaforma. A la piattaforma. Nel treno. Al tren. Al tren. Sto studiando, sto imparando. Estic studiando, sto apprenendo. Estico studiando, sto apprenendo. Io studio, mi sto specializzando in. Estudio, e me sto specializzando in. Estico andando, me ne sto andando. Estic andando, me n'ho vado. Estic andando, me n'ho vado. Fermare. Fermare. Attura. Attura. Fermati qui. Attura'ta qui. Attura'ta qui. Va bene. Està bé. Està bé. Posso, io sono capace di. Io puc, soc capace di. Posso? Puc. Puc. Posso io? Puc. Puc. Potrei avere? Puc teni. Puc teni. Da chiamare. Sei anomenat. Sei reanomenat. Mi chiamo, mi chiamo. Amdic, amdiguan. Amdic, amdiguan. Da quale paese? Da quin paese? Da quin paese? Da quale paese vieni? Da quin paese vens? Da quin paese vens? Vengo. Vinc. Vinc. Io vengo dagli Stati Uniti. Jo vinc dels Estats Units. Jo vinc dels Estats Units. C'è, ci sono, da. Ja, ja, dona. Ja, ja, dona. C'era, c'erano, stava dando. L'havia, l'havia, donava. L'havia, l'havia, donava. Io amo. Estimo. Estimo. Mi piace. E me agrada. E me agrada. Ti piace. Ti agrada. Te agrada. Mi scusi. Disculpeu-me. Disculpeu-me. Perdona, emma. Perdona, emma. Io. Jo tinc. Jo tinc. Obviamente. Esclar. Esclar. Di certo. Certamente. Certamente. Avete un menú inglese. Tens un menú en anglès. Tens un menú en anglès. Andiamo. Som-hi. Som-hi. Come si dice? Com es diu? Com es diu? Attenzione. Attenzio. Attenzio. Penguin oriabook dot com. Otto. Per favore, ripeti. Repetejo. Repetejo. Voglio. Voi. Voi. Non voglio. No voi. No voi. Non voglio andare. No voglia na. No voglia na. Non voglio un libro, non voglio nessun libro. No voglio un libro, no vuil capo libro. No voglio un libro, no vuil capo libro. Mi piacerebbe. E me agradaria. E me agradaria. Non mi piacerebbe. No e me agradaria. No e me agradaria. Non vorrei viaggiare. No e me agradaria viaggiar. No e me agradaria viaggiar. Non vorrei il dessert. No e me agradaria en las postras. No e me agradaria en las postras. Io Io ti ho Non o Non o No ti ho No ti ho È È Non è Non è Hai Tu tens Non hai Non hai Non tens Non tens Non tens Lo so Osa Non lo so Capisco Enten Non capisco No enten No enten Io parlo inglese Parlo angles Parlo angles Non parlo spagnolo No parlo castellà No parlo castellà Mi piace È ma agrada È ma agrada Non mi piace No è ma agrada No è ma agrada C'è ci sono Iaian Iaian Non c'è, non ci sono Noi ha, noi ne ha Noi ha, noi ne ha Noi ha, noi ne ha Il salone di bellezza Il salone di bellezza Il salone di bellezza Il salone di bellezza Lui è grande 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 Tu hai una macchina Tens un coca Tens un coca Avete una macchina? Tens un coca Tens un coca Il treno è alla stazione 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 Capisci Capisci? O intens? Capisci? Intens? Intens? È troppo grande? È massa grande? È massa grande? È troppo grande? È massa grande? È massa grande? C'è ci sono? Iaian. 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 È lontano d'aquí? È lontano d'aquí? È lontano d'aquí? Tu vuoi? Tu volums. Tu volums. Vuoi? Volums. Volums. È? 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 È asaixo. È asaixo. Che cos'è? Cuees. Cuees. C'è una estanza con una dotxa. Y a una habitació amb dotxa. Y a una habitació amb dotxa. C'è una estanza con la dotxa. Y a una habitació amb dotxa. C'è una habitació amb dotxa. Devo, devo. È da, o è da fe. È da, o è da fe. Devo comprare. È da comprare. È da comprare. Devo comprare un biglietto per viaggiare. È da comprare un biglietto per viaggiare. È da comprare un biglietto per viaggiare. Dovrei. Auria. Auria. Quanti anni hai? Quants anys tens? Quants anys tens? Dove vivi? Ombius. Ombius. Fammi vedere, mostramelo. Ensenya Emma, ensenya Emma O. Ensenya Emma, ensenya Emma O. Rallentare. Afluixa. Afluixa. Voglio andare. Vull andare. Vull andare. Hai qualcosa altro? Tens alguna cosa més? Tens alguna cosa més? Il contrario di grande. Il contrario di grande. Il contrario di grande. Il contrario di grande. Non conosco la parola. No conec la paraula. No conec la paraula. Questo significa. Questo significa. Vuol dire? Volums d'això. Volums d'això. Cosa significa? Cue volums d'això. Cue volums d'això. Come si chiama? Come si chiama? Come es diu això? Come es diu això? Come es diu això? Come es diu això? Come si dice per favore in tedesco? Come si può dire se us plau in alemane? Ho bisogno. Io necessito. Dove è la valigia di Michael? On è la maletta di Michael? Ottimo. Molto bene. Ovviamente, è chiaro. È clà, è sta clà. Ok. D'accord. Ok, nessun problema. D'accord, cap problema. Non male. Non sta malament. Non è male. Non sta malament. Non sta malament. Va bene. È buo. È buo. Ho fame. Ti ingana. Ti ingana. Sono assettato. Ti ing set. Ti ing set. Ho caldo. Estic calen. Estic calen. Ho freddo. Ti ing freddo. Ti ing freddo. Penguin. Audiobook. Dot com. Dieci. Sono stanco. Estic cansat. Estic cansat. È bel tempo, fa bel tempo. Fa buon temps, fa buon temps. Fa buon temps, fa buon temps. Fa freddo. Fa freddo. Fa freddo. È caldo. È caldo. È caldo. È fantastico. È genial. È genial. C'è il sole. Està solellat. Està solellat. C'è vento. Fa ben. Fa ben. Mi scusi, per favore, quando parte il prossimo treno per Madrid? Perdoneu, si usplau, quando surta il proprio treno a Madrid. Perdoneu, si usplau, quando surta il proprio treno a Madrid. Il treno parte tra dieci minuti. Il treno surta in deu minuti. Il treno surta in deu minuti. Parte alle dieci del mattino. Surt a les deu del matì. Surt a les deu del matì. Quanto costa un biglietto? Quant costa un biglietto? Quant costa un biglietto? Prima o seconda classe. Primera o segona classe. Primera o segona classe. Seconda classe, per favore. Segona classe, si usplau. Segona classe, si usplau. Sono duecento euro, fa duecento euro. Sono dos cents euros, això fa dos cents euros. Sono dos cents euros, això fa dos cents euros. Domani alle dieci, oppure, vorrebbe un biglietto per il treno per Parigi. Demà a les deu del matì, o bé, l'agradaria un biglietto per il treno a París. Demà a les deu del matì, o bé, l'agradaria un biglietto per il treno a París. Mi scusi, per favore, dov'è l'autobus per la spiaggia, o, da, da dove parte l'autobus per la spiaggia? Perdoneu, si usplau, on és l'autobus cap a la platja, o, des, d'on surt l'autobus cap a la platja? Perdoneu, si usplau, on és l'autobus cap a la platja, o, des, d'on surt l'autobus cap a la platja? Lagiú, a sinistra. Allà, a l'esquerra. Allà, a l'esquerra. Quale? Ci sono molti. Quin? Hi ha molts. Quin? Hi ha molts. È il numero cinque. És il numero cinque. És il numero cinque. Grazie mille. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Questo autobus va in spiaggia. Aquest autobus va a la platja. Aquest autobus va a la platja. No, il numero cinque va in spiaggia. No, il numero cinque va a la platja. No, il numero cinque va a la platja. A che ora parte l'ultimo autobus per la spiaggia? A quina ora surta il derret autobus della platja? A quina ora surta il derret autobus della platja? L'ultimo autobus parte alle cinque e venti. È l'ultimo autobus surta la cinque e bin. È l'ultimo autobus surta la cinque e bin. Mi scusi, per favore, dove è la banca più vicina? Perdoneu, si us plau, on è il banca più proper? Perdoneu, si us plau, on è il banca più proper? Di che cosa hai bisogno? Qu'è necessitas? Qu'è necessitas? Vorrei cambiare dei soldi. E mi agradaria cambiare una mica de diners. E mi agradaria cambiare una mica de diners. C'è una banca dall'altra parte della strada, sulla destra. Hi ha un banca a l'altra banda del carrer, a la dreta. Hi ha un banca a l'altra banda del carrer, a la dreta. Qual è il tasso di cambio oggi? Qu'è il tipo di cambio attuale? Qu'è il tipo di cambio attuale? Sono 1,22 dollari per euro. Sono 1,22 dollari per euro. Sono 1,22 dollari per euro. Vorrei comprare euro. E mi agradaria comprare euros. E mi agradaria comprare euros. Quanti? Quants? Quants? Vorrei cambiare 100 dollari. E mi agradaria cambiare 100 dollari. E mi agradaria cambiare 100 dollari. Vorrei anche delle monete, per favore. També voldria algunes monedes, si us plau. També voldria algunes monedes, si us plau. Ecco ti. Ancara teniu habitacions lliures. Perdoneu, si us plau. Ancara teniu habitacions per lluca? Perdoneu, si us plau. Ancara teniu habitacions lliures. Si, naturalmente. Si, per suposat. Si, per suposat. Si, per suposare. Chant. Per suposat. Per suposatio. Grazie a tutti